Giorno di riprese 49, stiamo avviando ad un'altra location, sempre qui, questo boschetto. Non fa così freddo come può sembrare, ci sono 11 gradi quindi tutto ok. Approfittiamo di queste giornate invernali anche se fa freddo per girare con le foglie cadute dato che ci serve un paesaggio autunnale barra invernale e ci sono tutte le foglie per terra e gli alberi spoglio comunque abbastanza secchi. Cambio outfit, abbiamo una tattica speciale, incolliamo pezzi di costumi sopra i costumi. E questo è uno spoiler, qualcosa che sarà nel futuro ma noi stiamo girando una scena del passato, quella del futuro l'abbiamo già fatta e quindi c'è stato un restyling alla forma base. Riprese finite per oggi, ora torniamo a casa. Volevo dire che sono molto figa di me stessa perché sono riuscita a piangere veramente senza le lacrime finte e quindi che bello. Saluta! Abbiamo un po' di freddo, adesso ci siamo ghiacciati per bene e torniamo al calore del camino. Ciao!